Prima del trattamento avevo dei veri problemi in quanto non avendo i molari non riuscivo assolutamente a masticare quindi non era soltanto un problema estetico che apparentemente poteva anche passare ma la masticazione mi provocava una digestione purtroppo non ottimale mi sentivo con un handicap in quanto obiettivamente non riuscendo a masticare lateralmente erano poche le cose che potevo ingerire e quindi è stato molto molto difficoltoso andare avanti in questi ultimi due o tre anni Devo dire che il fatto del primo sterbe sono rimasti tutti meravigliati in quanto già come apparivo è stata una cosa sensazionale in quanto molto molto naturale molto bella e di tutti si sono meravigliati nemmeno credevano che avessi fatto un lavoro del genere dal primo momento il chirurgo è stata una cosa fantastica quello che ha fatto in quanto con molta leggerezza nel senso che senza affrontare un colore assolutamente insopportabile e cooperando con lui si è riusciti ad uscire dopo un paio d'ore con una cosa che già mi faceva ispirare al futuro con positività Devo dire che darei sicuramente il mio bel 10 di quanto ora posso essere serena di aver fatto una scelta altissima i miei paure sono stati tanti perché mi sono affidata al web e ho cominciato a navigare senza volerlo sono imbattuta e questo dottor Palmas è proprio vedendo la sua storia anche sicuramente contenta del fatto che fosse un italiano e mi ha consentito di potermi tuffare in questa realtà contro il volere di tutti i familiari perché loro dicevano mentre ora sono venuta al secondo sterbe addirittura come marito il quale è più intusiasmo di me e quindi